I ragazzi di Amici, hanno rifiutato di prendere lezioni da Timor Stephens, ma lui reagisce mettendo in sfida un altro ballerino Amici, i ragazzi continuano l'occupazione della scuola.Anche nel Daitime di mercoledì 23 gennaio i ragazzi di Amici, hanno intenzione di continuare la loro protesta e la loro occupazione della scuola A questo proposito, infatti, i concorrenti hanno detto alla produzione di avere intenzione di dormire nella scuola di notte per far capire che non stanno scherzando La richiesta arriva dopo l'appello fatto ad alcuni artisti come Emma, Elisa, Benigni, Sgarbi, Saviano, Fiorella Mannoia Inoltre, oltre a non portare più la maglia del programma, i ragazzi stanno rifiutando di esibirsi, e di prendere lezioni da alcuni professori Amici, i ragazzi rifiutano le elezioni di Timor Stephens.La protesta è nata dalla decisione di Timor Stephens di eliminare il ballerino Marco senza dargli la possibilità né di studiare, né di affrontare una sfida Nel Daitime è andato in onda mercoledì 23 gennaio, Timor ha chiesto di poter fare lezione con il ballerino Mogli, ma quest'ultimo si è rifiutato Il coreografo ha detto di trovare questa decisione molto irrispettosa visto che è l'insegnante della scuola Poi ha chiesto, se ci fosse qualcun altro che volesse fare lezione con lui, ma nessuno, neanche Miguel, il ballerino preferito da Timor, si è proposto Amici, Timor riprende i ragazzi, e mette in sfida Gianmarco.Dopo il rifiuto dei ragazzi, Timor decide di parlare a loro per far capire qual è la sua posizione Il coreografo ha iniziato col dire questo due punti.Io vi ho ascoltato, adesso sono io che vi devo dire delle cose e perciò ascoltate State facendo una manifestazione per avere il diritto di studiare, e poi rifiutate le mie lezioni? Io sono un insegnante della scuola, e questa vostra posizione non ha senso Dopodiché ha continuato dicendo due punti.Non mi piace eliminare le persone, vedo che anche sui social ci sono tante persone contro di me, ma io ho rispettato il regolamento Ci sono altri ballerini che secondo me non hanno talento. Per questo ho deciso di mettere in sfida Gianmarco I ragazzi, dopo il discorso di Timor, hanno deciso di continuare il loro sciopero più motivati di prima Grazie a tutti!